Ospitare questo interessante avvenimento di canottaggio. Presidente, vorrei spiegare di cosa si tratta. Sì, è un campionato di canottaggio costiero, precisamente il vincisprint, ci sarà la partenza sulla riva di corsa, si salirà in barca, ci sarà uno slalom di 250 metri verso il largo per tornare in barca velocemente verso riva, a scendere e tornare a tre quadri. Questo campionato è il primo campionato che si svolge, il vincisprint come specialità olimpica, quindi ha un interesse per le società, ha un'importanza incredibile. Nel 2028 a Los Angeles, la prima volta ci sarà questa specialità, ci saranno atleti di tutta Italia che proveranno a qualificarsi a Porto per l'Olimpia e ci saranno anche atleti che hanno appena partecipato alle recenti Olimpiadi di Parigi. Per Pescara è un appuntamento importante al di là della stessa campionata? Sì, è un appuntamento importante perché con questi campionati noi celebriamo i cento anni della nascita, della costruzione del nostro circolo e li festeggiamo con questo appuntamento di campionati italiani. Grazie.